tutto ciò che serve per iniziare è un uncinetto e un gomitolo di filato il primo punto da imparare è la catenella talvolta detta anche maglia volante pertanto è da qui che inizieremo tieni l'estremità libera del filo in una mano e il resto del filo con l'altra questa estremità collegata al gomitolo viene chiamata filo di lavoro avvolgilo in senso orario formando un anello poi tienilo unito nella parte superiore con il pollice porta dietro il filo di lavoro fai scorrere l'uncinetto sotto il filo e sollevalo continuando allo stesso tempo a trattenere le estremità libere il filo ora forma un'asola intorno all'uncinetto per stringerla un po' tira il filo verso il basso assicurati che l'asola scorra facilmente lungo l'uncinetto grazie a tutti grazie a tutti